Nonostante la Serie B sia già in tasca, Bari-Avellino resta una partita da vincere, non solo in campo. L'obiettivo, non semplice, è andare oltre un numero 24.332 paganti sugli spalti del San Nicola. Dato senza precedenti in stagione, è registrato lo scorso 27 marzo per il derby contro la Fidelisandria, in quella che nei piani bianco-rossi doveva essere la domenica della festa ed è diventata, complice lo 0-0 del campo, una tappa di attesa verso la grande gioia celebrata sette giorni dopo a Latina. Così la sfida tra la squadra di Michele Mignani e quella di Carmine Gautieri, giocatore del Bari dal 93 al 96 con una promozione in all'attivo e sette reti e allenatore bianco-rosso per dieci giorni nell'estate 2014, può essere la partita del sorpasso a quella che fino a due settimane fa era l'ottava gara più vista in stagione dalla Serie A alla Serie C, dato destinato a essere ritoccato con il ritorno della capienza degli stadi al 100% realtà dallo scorso fine settimana. Quota 15.000 biglietti venduti è stata già sorpassata nel pomeriggio di venerdì e lo start alla vendita di 1.290 ticket nel settore ospiti a due giorni dalla partita ha garantito un'ulteriore accelerazione nelle vendite. Contro l'Avellino ci sarà spazio per colorare il San Nicola, in alto le bandiere è stato l'appello lanciato in settimana sui canali social e attraverso un tam-tam sugli smartphone dai gruppi organizzati della Curva Nord per una partita che resta molto sentita. Invitiamo tutto il popolo bianco-rosso a festeggiare come da tradizione, si legge, sventolando migliaia di bandiere e indossando sciarpe, maglie e quant'altro con i nostri colori. Venite allo stadio e partecipate al tripudio dei colori del nostro Bari e l'invito rivolto al pubblico. L'obiettivo, oltre a celebrare la promozione in B in casa, sarà appunto quello di andare oltre i numeri di Bari Fidelis, sfida che ha avuto sugli spalti più tifosi di tutte le partite giocate sin qui in stagioni in Serie B e che ha rappresentato anche la partita con più spettatori di tutta la Serie C negli ultimi otto anni. Domenica il Bari e la sua tifoseria vanno di corsa verso la festa promozione, appuntamento che potrebbe coincidere con un nuovo record al box office per la categoria.